Ciao, sono Sofia e sono la responsabile olistica di Big Art. Insegno tutti i tipi di fitness, beatball, stretching, anche acrobatica aerea. Durante la settimana ho la gente diversa, da 13 anni fino a 75. E' bello per iniziare, per scoprire che cosa è Pilates, che cosa è Yoga. Sono sempre contenta, fino a settimana gli ospiti vanno via riposati, molto contenti e si sentono più leggeri, perché Yoga non solo esercizi fisici, è anche esercizi mentali. Un saluto a tutti dalla vostra responsabile olistica di Yoga. Ciao!